Ed eccoci qua carissimi amici, vi faccio vedere una diretta che ha del pazzesco Guardate carissimi amici, Fiat 682 N2, guardate qua Il Marvin qua vi sta mostrando la diretta Stanno tentando di mettere in moto questo camion Che non si avvia Guardate qua, Fiat 682 N2, davvero spettacolare ancora Qua c'è il cane addirittura che abbaia perché sente il Marvin che sta parlando Guardate qua carissimi amici, abbiamo tentato di fare mettere in moto questo Fiat 682 Per sentire se era ancora vivo E se, se la diretta, guardate Vai, vai di rombo Bravissimo Ed eccoci qua carissimi amici, la diretta del Marvin Fiat 682 N2, il Marvin ve l'ha fatto mettere in moto Guardate Adesso caro amico, vediamo di fare sentire questo rombo In questa vecchia gloria, firma da un bel po' di anni Andiamo qua sui particolari, sui dettagli Lo dedico a tutti gli amici della mia associazione Sto facendo il filmato, sei in diretta Ecco facciamo sentire il rombo perché la gente Vuole il rombo Ed eccoci qua Via 682 È la prima di un anno Vai, vai Guardate È la diretta, dettaglio pazzesco Vai, vai, vai Il camion va, è ancora operativo Spettacolare, ci siamo mangiati un po' di nafta Bravissimo Bravo, bravo Guardate qua carissimi amici Lo dedico a Marco A Marco delle zone appunto Del Piemonte appassionato di trattori Che ha voluto a tutti i coach E andassi A vedere questo Pia 682 E chiaramente A tutti gli amici della mia associazione L'amico Giuliano come sempre Guardate carissimi amici Un po' la diretta Bravo Bravo Un po' la diretta qua Bravissimo, come ti chiami? Rocco Bravo Sei contento Insomma hai messo in moto sto camion Che qua gli amici mi dicevano Fammi sentire il rombo Guardate qua carissimi amici La diretta del Marvin Meglio di così E' un camion insomma Che c'era a pensarsi Prima di demolirlo Guardate qua carissimi amici La diretta del Marvin Ancora una volta Vi sta dando appunto L'emozione L'ebbrezza Guardate Pia 682 L'ho fatto mettere in moto Guardate Carissimi amici Guardate sono sotto I filtri qua C'è il cane cabaia Davvero spettacolare Guardate Bravissimo Guardate qua Si alza ribaltabile Vai bravo Eh Vai lo stesso Vai vai Guardate C'è un po' di gomme Però Va benissimo dai Un po' la diretta c'è stata Una diretta improvvisata Non si pensava che il camion Andasse in moto Invece è andato in moto Pia 682 N2 A voi Un po' di gomme